Dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido, dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extra ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Buongiorno a tutti, siamo con il Dottor Grandi. Dottor Grandi che negli ultimi giorni è stato l'autore di alcune dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. Se ne è parlato tanto, ma quello che mi interessa capire è da cosa è nata l'esigenza di raccontare quel tipo di situazione. Sì, questa esigenza è nata dal fatto che io quotidianamente, nella pratica mia quotidiana, riscontro quello che le statistiche a livello nazionale ci hanno rivelato. Cioè che sempre più persone hanno problemi, hanno difficoltà a curarsi. Questo perché? Perché è per una ragione prettamente economica. Spesso anziani pensionati non hanno materialmente i soldi per acquistare i farmaci di fascia C, che sono quelli a totale carico del paziente. Per cui spesso quando io prescrivo uno di questi farmaci mi sento dire dal paziente fin tanto che non prendo la pensione non posso comprarlo. Ecco, quindi questa riflessione che ho fatto nasce da questo amaro riscontro. E' vero che i farmaci di fascia C in genere non sono farmaci salvavita, però sono farmaci importanti che curano il dolore, curano altri sintomi come la dispepsia, quindi problemi gastrointestinali. E se il paziente ne è sprovvisto, soffre, quindi non ha la possibilità di lenire le sue sofferenze. Ecco, lei è responsabile politico del Movimento Civico Italia del Rispetto. Facendo un discorso proprio più prettamente politico, che cosa le viene voglia di chiedere alla Giunta che seguirà questo commissariamento? Beh, io chiedo alle istituzioni e a chi si accingerà ad amministrare Voghera che sì, alcuni progetti come il restauro del teatro sociale o del Palo Oltrepo sono importanti, però non incidono sulla vita quotidiana della gente. Quindi io faccio un appello ai futuri amministratori di Voghera che è importante destinare risorse per il cittadino e per potenziare i servizi sociali che a Voghera, devo dire, funzionano e io ho avuto modo di riscontrarlo, però potrebbero funzionare meglio se avessero a disposizione più risorse.